Sì, il fallimento di un'impresa è una perdita non solo individuale, ma dell'intera economia di un territorio che perde un suo riferimento produttivo. Ed il fallimento di un imprenditore non è solo economico, ma viene spesso vissuto come un fallimento personale che porta, come sappiamo purtroppo, anche a gesti estremi. Ed il trend dei fallimenti nel 2011 segna purtroppo la perdita di quasi 12 mila imprese, in Italia quasi 22 ogni 10 mila attive, dove la Campania con 21,3 fallimenti ogni 10 mila è all'ottavo posto in Italia, subito dopo le regioni del centro nord guidate dalla Lombardia, la regione più industrializzata e terziarizzata d'Italia e quindi la più colpita nella chiusura di aziende nel terziario, costruzioni e industria, che sono i settori dove la crisi costringe maggiormente a portare i libri in tribunale. Ma il tasso di crescita da un anno all'altro dei fallimenti scatta una fotografia diversa dell'Italia. Qui nell'ordine Molise, Campania e Lazio fanno segnare tra 2011 e 2010 l'andamento peggiore, rispettivamente con più 39,5%, più 29,6% e più 23,4%. È Milano la provincia in assoluto con più fallimenti in Italia, 39 su 10 mila imprese, mentre nella classifica stilata dal Cerved che vedete nella computer grafica delle province con più imprese è Napoli la peggiore dopo Milano, peraltro impeggioramento da 20,9 a 28,7%, mentre Salerno è ultima sempre tra le province italiane con più imprese con un numero di fallimenti in miglioramento da 15,2 del 2010 a 12,4 dell'anno scorso. Dove si fallisce di più? Per oltre la metà nel terziario del commercio e dei servizi, per un quarto nelle costruzioni e per l'altro quarto nel manifatturiero. Ma se si rapportano le procedure di crisi con il numero delle imprese attive, allora è l'industria il settore che più getta la spugna, dove a soffrire più degli altri sono la meccanica, il sistema casa, il sistema abbigliamento. Nel paese, nella nostra regione in particolare, le imprese sono strette da tre virus letali, il credit crunch, cioè la stretta del credito, il forte calo della domanda interna ed il ritardo nei pagamenti, denunciato soprattutto da pubblica amministrazione ed enti locali nei convegni e nei meeting, ma enti locali che se vogliamo dirla tutta sono i primi a tenere le imprese alla canna del gas.